Buongiorno, ben trovati, appuntamento di sabato 27 luglio con la nostra rassegna stampa, l'ultimo appuntamento settimanale. Vediamo i titoli dei giornali Oggi in Edicola, come sempre apriamo questo appuntamento con Mattino 6, con le prime pagine dei giornali abruzzesi. Iniziamo dal centro, dall'edizione di Pescara, per vedere il titolo principale, che in questo caso riguarda la cronaca, eccolo qui inquadrato, vedete il titolo in alto, il titolo di apertura, truffa all'Inps, 260 sotto inchiesta, false assunzioni coinvolti, un consulente del lavoro ed un commercialista. Più tardi vedremo anche il servizio su questa operazione della Guardia di Finanza di Pescara. Vediamo anche la fotonotizia, centropagina, estratta viva dalle macerie. Sara è il volto della dama, parliamo ovviamente dell'importante manifestazione della perdonanza celestiniana dell'Aquila, la 725esima edizione, e il volto della dama sarà quello di questa ragazza che fu estratta viva dalle macerie del terremoto dell'Aquila del 2009. Oggi questa bella ragazza la vedete a 17 anni. Torniamo alla cronaca, anzi torniamo alla cronaca e alla politica per vedere quello che accade a Pescara, essendo questa proprio la prima pagina di Pescara del centro. La politica, le nomine in comune, è stata presentata ieri la macrostruttura comunale, quattro super dirigenti per il comune di Pescara. E poi a fa senza tregua, 1300 pescaresi al pronto soccorso ieri ed oggi. Pescara tra le 14 città più calde del paese, con il bollino rosso. Parliamo anche di occupazione all'anno, protesta dei lavoratori, ridatici il posto. Lavoratori che sono stati licenziati, da come leggiamo in questo titolo. Vediamo anche il titolo in basso, che riguarda la grandine del 10 luglio scorso. 10.000 richieste di rimborsi, record di domande in comune a Pescara per i danni provocati dal nubifragio di tre settimane fa. In basso il Super Neralotto, tutti a caccia della fortuna. L'Abruzzo sogna il jackpot con un monte premi record di 196 milioni. Parliamo anche di sport. Il Pescara, il calciomercato con Gaston Brugman, che è la chiave per arrivare all'attaccante. La possibile e probabile cessione dell'uruguaiano potrebbe regalare al Pescara un nuovo bomber. Andiamo in alto per vedere due titoli. Uno di cronaca nazionale, una tragedia di cui si sta parlando tanto in queste ultime ore. avvenuta all'alba di ieri a Roma con il carabiniere Mario Cercello Rega ucciso con otto coltellate nella capitale. Sono stati fermati due americani. E poi la regione, 24 nomi in lizza per la portrona di dirigente e di direttore generale dell'azienda sanitaria regionale. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti Lanciano Vasto. In questo caso anche la cronaca in primo piano, come per l'edizione di Pescara. Banconote false in casa, arrestato. E poi emergenza idrica, un altro guasto a Vasto. Manca l'acqua ed è caos. Ci spostiamo a Lanciano, andiamo più in basso. Parco delle arti, senza agibilità. Saltano le feste. E tornando a Vasto, il concerto di Giovanotti, lavori fermi. La spiaggia non è pronta per ospitare l'evento. Vediamo anche la svolta alla Honeywell. Sì, alla cessione riparte l'impresa di Atessa. Va in porto l'intesa con Baumark. Mercoledì ci sarà la firma. E poi lo sport, pubblico record, Chieti in festa per l'Ital Volley. Ma a vincere è la Slovenia per 3 a 1. Vediamo anche la prima pagina di Teramo. Sempre dal quotidiano Il Centro. La ASL difende la sua neurochirurgia. Fagnano, direttore generale dell'ASL di Teramo, dice è un'eccellenza il piano regionale, la mette a rischio. Vediamo più in basso le cronache. Siamo a Silvi. L'attentato a Presutti resta senza movente. Colonia Spiaggia. Messi i sigilli ad un campeggio abusivo. E poi città divisa in zone rischio sismico. A Teramo pronto lo studio. Vediamo anche la cronaca che ci porta in questo caso a Bellante. Sempre in provincia di Teramo. Cade mentre va in bici e grave. 43enne ricoverato a Pescara. L'incidente durante un giro in bicicletta con gli amici. E poi il calcio di serie C. Il Teramo sogna l'ASIC. Presi i baby Birigea. E Santoro dunque prosegue la campagna di rafforzamento della formazione del presidente Iachini e del tecnico Bruno Tedino. Siamo alla prima pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Sempre del centro. Va contro mano panico sull'autostrada 24. Un 81enne viaggiava verso l'Aquila bloccato in galleria a Pietra Secca. Vediamo ancora l'Aquila raffica di furti al progetto case scatta l'allarme. Dall'Aquila ci spostiamo nella Marsica, Avezzano. Tassa sui rifiuti stangata servita in bar e pizzerie. Vediamo ancora più in basso. Sempre l'Aquila chiesa inagibile dal sisma. Ci deve pensare il prete. Vediamo anche quest'altra notizia. Morta di Stenti. Indagato il compagno, il giallo di Carsoli, la procura badante segregata e abbandonata al suo destino. Andiamo poi a vedere le rievocazioni. In questo caso la giostra cavaleresca di Sulmona al via con Simona Ventura. Oggi ci sarà un inserto sul centro proprio per parlare di questo evento sulmonese. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo, del messaggero, la truffa delle false assunzioni. Torniamo a Pescara. Avevano aperto 17 aziende per frodare l'Inps, incassando indennità di disoccupazione. Un arresto, due interdizioni dall'attività e 140 indagati, tra cui dipendenti fantasmi. Come detto poi vedremo anche il servizio su questa vicenda. Parliamo dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. L'Italia non taglia più il volo per l'Inate, dunque resta il collegamento tra Pescara e la Lombardia. E poi Parco, 50 orsi pronti a fare compagnia a Papillon. Vediamo in alto altre notizie. L'Aquila nella perdonanza, l'ex bambina della fotosimbolo del terremoto. Sarà questa 17enne a rappresentare la dama nella bolla della perdonanza celestiniana. Poi Avezzano imbocca la 25, il controsenso e percorre 10 chilometri. E poi Pescara, Cisco, rivelazione, Brugman verso il Parmo. L'abbiamo visto anche prima, torna di attualità il possibile passaggio del capitano del Pescara, la formazione emiliana. Siamo a Montesilvano, la figlia si laurea, lui cade e muore durante la festa. E' accaduto proprio a Montesilvano. E poi Università, mappatura e studio dei materiali raccolti, flotta, getta le reti per pescare la plastica. C'è stata questa iniziativa presentata ieri a Pescara, anche in questo caso più tardi vedremo il servizio. Vediamo, scusate, il quotidiano, la città di Teramo. La prima pagina in questo caso, si parla di sanità, ospedale nuovo al posto del vecchio, quartieri e associazioni, siamo ovviamente a Teramo, lanciano un comitato contrario alla delocalizzazione a Piano Daccio. Vediamo poi a centropagina Prati di Tivo, trovato l'accordo per la stagione invernale, Brindisi ai Prati, questo è il titolo. E poi Colonia Spiaggia, sequestrati gli abusi nel campeggio. E poi Ripoli di Mosciano, frontale tra auto e scooter, grave 22enne. E poi Paolo Antonio di Sant'Egidio alla Vibrata, botto e fiamme, due feriti nell'incidente stradale. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, siamo all'edicola nazionale, possiamo partire dal Corriere della Sera. Ovviamente tutti i titoli principali riguardano questa tragedia accaduta all'alba di ieri a Roma con l'omicidio di un carabiniere 35enne, carabiniere ucciso giallo a Roma, colpito con otto coltellate, confessa un giovane americano. Versioni discordanti sull'aggressione, vedete nella foto, il carabiniere nel giorno del matrimonio si era sposato da poco più di un mese. E poi nave militare con 135 migranti, Salvini, i porti sono chiusi, dice il Ministro dell'Interno. Vediamo anche Repubblica, carabiniere ucciso nella Roma, della droga, omicidio in centro, otto coltellate a militare, che era in borghese, ferito un suo collega all'intervento dopo il furto di una borsa ad un pusher, i sospetti bloccati prima della fuga negli Stati Uniti. E poi vedete il punto di fianco, sale il prezzo, Sala è il prezzo di un'alleanza PD 5 Stelle. Vedete nella foto Nicola Zingaretti, il segretario nazionale del PD, nonché presidente della Regione Lazio, e Giuseppe Sala, che è il sindaco di Milano. Vediamo anche il fatto quotidiano, Formigoni deve stare in carcere, sa dov'è il bottino, scrive il fatto, la procura falso, che non possa più collaborare. Ora i servizi non indagano più sulla Russia, Salvini non vuole, si parla dei fatti dell'hotel di Mosca. Vediamo anche Libero, votare un'illusione, Mattarella fortemente deciso a tergiversare. E poi in alto, vedete, ucciso carabiniere ogni giorno, sette agenti aggrediti. Vediamo anche il giornale, colpito un intero paese, siamo tutti carabinieri, agente eroe di 35 anni, massacrato da otto coltellate, mentre sventava un furto. E poi, massima attenzione nel governo, Salvini attacca sulle tasse al governo. O io, o Tria, che è il ministro delle finanze e dell'economia. Vediamo il manifesto, morti a gala, vedete questo titolo con l'ennesima tragedia nei nostri mari, il mare che ha restituito 62 corpi degli oltrecentro migranti morti nel naufragio di giovedì a largo della Libia. E poi in alto, flat tax, Salvini scatenato contro il ministro Tria. Vediamo anche il messaggero nazionale, ucciso per difendere Roma, carabinieri accoltellato vicino Piazza Cavour, fermati due studenti americani, uno confessa l'omicidio, indagini su una borsa rubata che doveva essere restituita. E poi, in basso, Salvini a Tria, flat tax, vera o addio. E poi, porto negato alla guardia costiera, il viminale non allo sbarco di 134 migranti, della Gregoretti. Vediamo anche il prossimo quotidiano, che è il mattino di Napoli, morte di un eroe napoletano, perché il carabiniere ucciso ieri a Roma era originario di Somma Vesuviana, ammazzato con otto coltellate per 100 euro. E poi la politica, Salvini va all'attacco di Tria, taglio delle tasse, o io o lui. Abbiamo visto anche il titolo, un titolo analogo anche negli altri quotidiani, con questo scontro tra il ministro dell'Interno e il ministro dell'Economia e delle Finanze. Vediamo il sole 24 ore, guerra dei dazi, conto da 4 miliardi e mezzo per il Made in Italy. E poi riforma fiscale bonus 80 euro, ancora campo di scontro, Movimento 5 Stelle. Lega. Vediamo anche la verità, carabinieri ammazzato a coltellate, lo Stato smetta di stare con i criminali, scrive il quotidiano La Verità. E poi lo scontro in maggioranza ore sulle tasse, Tria e i vicepremier, ai ferri corti. Vediamo la stampa di Torino, l'omicidio che sconvolge l'Italia, carabiniere ucciso a Roma, fermati due giovani americani. E poi, Standard & Poor's, l'agenzia di rating, avverte Roma, c'è un rischio Grecia, Salvini contesta Tria e la Maxi manovra. Vediamo anche il tempo di Roma, Roma città violenta, carabiniere massacrato, ovviamente grande spazio del quotidiano romano alla tragedia accaduta ieri. E poi in basso c'è un titolo che riguarda la politica, il PD dice no a malincuore, all'inciucio, con i grillini. Vediamo anche il secolo punto it, vendetta per un eroe, perché assassinato il carabiniere di Roma non può esserci nessuna pietà, scrive il secolo punto it. Vediamo anche il quotidiano genovese, il secolo XIX, il carabiniere ucciso a coltellate perché cercava dei borseggiatori a Roma nel quartiere Prati, fermati due ragazzi americani, uno confessa, l'ho fatto per la droga. E anche sul secolo XIX troviamo il titolo che allarma i mercati, perché Standard & Poor's parla di rischio Grecia. Per l'Italia, l'agenzia di rating, ritiene decisiva la nuova manovra economica del governo. Vediamo avvenire, c'è porto per noi, si parla della nave della Guardia Costiera con 140 immigrati a bordo che è stata bloccata, chiesta ridistribuzione, caos in mare dopo i naufragi, nuove partenze, nessun soccorso organizzato. E poi vedete ovviamente anche su avvenire la notizia dell'omicidio dell'accoltellamento mortale del carabiniere a Roma nella prima mattinata di ieri. Lasciamo il quotidiano a venire, dunque l'edicola nazionale. Possiamo tornare ai quotidiani di casa nostra, ripartire dal centro, da pagina 2, con il sogno del jackpot del superenalotto. Sogna anche la nostra regione, vedete il titolo. Questa sera il Montepremi record di 196 milioni può polverizzare il record di Avezzano di 12 milioni, poco più di 12 milioni, che risale al 2012. Vediamo anche il turismo regionale, i grandi collegamenti, perché c'è una buona notizia per quanto riguarda l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, perché l'Abruzzo non perde il volo per Milano, stop al Pescara a Linate, ma da oggi all'Italia a terra a Malpensa, l'aeroporto di Linate a Milano è stato chiuso da oggi per lavori urgenti e dunque è stato tutto spostato all'altro aeroporto milanese di Malpensa. Il sottosegretario Vacca e Paolini molto soddisfatti per aver mantenuto il collegamento per Milano e dunque se ne è parlato ieri in una conferenza stampa che si è tenuta proprio presso l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Hanno parlato proprio i protagonisti, ovvero il sottosegretario Vacca, il presidente della saga Paolini, sventato dunque il rischio di perdere il collegamento con Milano. Possiamo vedere il servizio. Non sarà cancellata l'altra terra a Pescara a Milano, rimarranno i consueti due voli giornalieri verso Linate, fatta eccezione per il periodo in cui l'aeroporto Lombardo rimarrà chiuso, ovvero fino al 27 ottobre. Dentro l'Italia, comunque i vertici dell'Italia conoscono bene i numeri, sanno che questa è una tratta che è molto frequentata e molto utilizzata e soprattutto logicamente i nuovi proprietari dell'Italia ci saranno anche ferrovie dello Stato perché la logica è quella di integrare il trasporto ferroviario con quello aereo a livello nazionale e la tratta adriatica Pescara-Milano è ancora una tratta che rispetto all'alta velocità che c'è sul lato tirrenico non è allo stesso livello. Non finiscono qui le novità sui cieli abruzzesi, infatti verrà mantenuto l'hub con Malpensa per i voli intercontinentali. Si potrà viaggiare all'estero facendo un unico biglietto aereo direttamente da Pescara. Questa opzione è fondamentale anche per il milione di abruzzesi che vivono oltreoceano. Potranno tornare nella loro regione di origine senza dover recuperare i bagagli a Milano o a Roma per poi doversi imbarcare su un altro volo o su un pullman. Abbiamo intanto da oggi il volo di Malpensa che è un hub intercontinentale per la prima volta si può fare un biglietto da Pescara e andare in giro per il mondo non scaricando i bagagli perché Malpensa come sapete si cambia aereo e che tutte le compagnie in cosciere in colla l'Italia vi portano in giro per il mondo. Mentre all'inizio dell'anno sono aumentati i passeggeri dall'aeroporto d'Abruzzo di quasi il 6% si lavora anche per ristabilire la tratta Pescara-Torino. Sono numeri molto importanti per noi perché ci permettono di guardare al futuro con grande fiducia e di guardare all'obiettivo del milione di passeggeri sempre più concretamente. Andiamo avanti, parliamo di sanità dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Ecco i 24 nomi in corsa per la poltrona più prestigiosa. Ci sono tanti papabili a rivestire l'incarico davvero molto ambito. Vediamo ancora Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, rappresenterà a Roma il Consiglio regionale d'Abruzzo e poi Ortona avrà il suo pronto soccorso. Slitta la decisione l'Aquila Terra, parliamo della riorganizzazione ovviamente della rete ospedaliera della nostra regione. Vedete in basso un altro titolo, il vice sindaco Pastore scrive a Marsilio Fondi all'agricoltura bloccati dopo lo sciopero della fame e Giulianella invia una lettera denuncia. Guardia Grella è capitale dell'artigianato abruzzese, oltre 100 espositori alla mostra che sarà inaugurata il 31 luglio nel centro in provincia di Chieti. Siamo alle cronache dalle province, partiamo da Pescara, false assunzioni, truffa all'Inps, consulenti del lavoro nei guai. La finanza scopre 17 aziende fittizi ed un raggiro da mezzo milione con le indennità di disoccupazione che percepivano senza averne diritto molti lavoratori. Allora possiamo andare a vedere il servizio che fa il punto su questa inchiesta che è stata illustrata ieri dal comandante della Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara e dal direttore dell'Inps di Pescara. Vediamo. Avevano messo in piedi un articolato sistema di frode in danno dell'Inps provinciale di Pescara mediante il quale imprese di fatto inesistenti assumevano falsamente dei lavoratori dipendenti allo scopo di consentire loro il conseguimento dell'indennità di disoccupazione nello specifico emerso nelle indagini della Guardia di Finanza che per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 le imprese assumevano falsamente i lavoratori allo scopo di consentire loro il conseguimento dell'indennità denominata Naspil. I responsabili tre persone sono stati segnalati per truffa aggravata ai danni dello Stato. Gli accertamenti vengono fatti probabilmente di routine da parte dell'Istituto quindi attraverso poi l'inclusione delle banche dati è scaturita una situazione poi abbastanza poi particolare che riguardava poi un'azienda. Abbiamo attenzionato poi il consulente che svolgeva attività di consulenza per questa azienda e da lì è scaturita tutta poi l'attività di indagine che ha portato agli accertamenti attuali di cui stiamo parlando. Le figlie di questa truffa erano ovviamente alcuni professionisti, commercialisti e consulente del lavoro qui di Pescara che ovviamente predisponevano tutta la documentazione fittizia da inviare all'Inps per poi poter far accedere i dipendenti, questi falsi dipendenti alle indennità di disoccupazione e alle altre indennità connesse. Perché dublefass? Dublefass perché alcuni erano sia dipendenti fittizi che titolari di aziende fittizie quindi avevano una doppia veste diciamo e quindi con la conclusione dell'indagine con la misura cautelare eseguita ieri abbiamo sicuramente inferto un bel colpo a questa organizzazione che stava già da qualche anno operando sul territorio pescarese. Parliamo del maltempo del 10 luglio scorso, un ubifragio e grandine soprattutto a Pescara risercimento, vedete per la grandine record di domande oltre 10.000 presentate in comune a Pescara. Vediamo anche la prossima pagina, il totonomine restiamo a Pescara perché è stata presentata la macro struttura comunale, il sindaco Masci vuole 4 super dirigenti e per i vigili Spunta Cichè, l'attuale comandante della Polizia Municipale di Epinetto, questo il titolo di pagina 7 dove si parla appunto, vedete anche nel grafico di come sarà, di quali saranno i, di come funzionerà la macchina amministrativa del comune di Pescara, divisa proprio per macro aree. Proseguiamo, caldo 1300 pescaresi al pronto soccorso, AFA ieri e anche oggi nel capoluogo adriatico, Bollino Rosso con temperature oltre 30 gradi ma con una temperatura percepita superiore a quella reale. Vediamo poi un'altra notizia, paziente da inescandescenze è caduto all'ospedale di Pescara dove è arrivata la polizia, circonvalazione, incidente e disagi con due feriti nella mattinata di ieri. Siamo ancora a Pescara, festa di Sant'Andrea attesa per la processione in mare di domani e poi disabilità e sport, ecco i campioni al Museo delle Genti. Esami di Stato, i risultati, maturità, un pieno di cento all'Istituto Belisario e al Mantone di Pescara, classico nozze d'oro con la maturità, la terza B del D'Annunzio si è ritrovata e commossa, 50 anni dall'esame di Stato e poi in basso, altra giornata del ricordo, Mantone la quinta B programmatori si ritrova invece dopo 40 anni. Vediamo la cronaca di Montesilvano, le pagine del centro dedicate alla cittadina adriatica, band e cantatori da tutta Italia per la due giorni di sfide musicali oggi e domani, pop rock e music fest a Montesilvano e poi dal 2 al 4 agosto al Paladin Martino, Rodei Cowboy, un villaggio indiano, Montesilvano diventa la capitale del western. Vediamo ancora un altro appuntamento che riguarda la provincia di Pescara, da Montesilvano a Città Sant'Angelo, questa sera il concerto gratis all'outlet di Città Sant'Angelo della cantante Giussi Ferreri. Poi il 6 agosto ci sarà l'altro famoso cantante Soler. Vediamo e poi invece a Francavilla, sempre per quanto concerne gli eventi, festa del pomodoro e show dei Quattro Santi, sabato di cibo e risate tanti gli appuntamenti anche nella cittadina in provincia di Chieti. Restiamo a Francavilla con una finestra dedicata allo sport perché non si è iscritto il Francavilla Calcio al prossimo campionato di Serie D, c'è stata l'estromissione della formazione giallorossa, ma il presidente Putrino dice che Francavilla Calcio non sparisce con il settore giovanile, manteniamo storia e matricola. Ora si tratterà di capire da quale campionato ripartirà la formazione giallorossa. Torniamo in provincia di Pescara dall'anno, la protesta picchetto dopo i licenziamenti, 42 lavoratori reclamano il posto e poi con le Corvino oggi e domani la festa dell'estate di congiunti e poi Cugnoli muore 20 giorni dopo la caduta dal trattore 74enne che era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. Blizze dei carabinieri, inchiesta a Chieti, soldi falsi nascosti dentro casa, c'è stato un arresto, un 35enne è stato bloccato dai carabinieri. E poi a Lanciano si parla di trasporti, il PD a rischio il servizio bus per Pescara, Marongiu lancia l'allarme, la regione taglia un milione di chilometri e favorisce Giulianova, dice l'esponente del PD lancianese. Andiamo avanti, siamo alla pagina della provincia di Chieti, Giovanotti, lavori in ritardo, la spiaggia non è pronta, Vasto il concerto a rischio del famoso cantautore italiano, nessuna certezza a meno di un mese dall'evento, il sindaco Menna dice aspettiamo il nuovo piano di sicurezza e intanto il caso approda in consiglio comunale. Don Stellerino, oggi l'addio al prete editore, restiamo a Vasto dove si terranno questa mattina i funerali nella chiesa di San Pietro di Don Stellerino D'Annibale, fondatore della televisione TRSP. La funzione funebre sarà ufficiata dall'arcivescovo della diocesi di Chietivasto, Monsignor Bruno Forte. Ci sono anche delle dichiarazioni del vescovo di Campobasso Bregantini che intuizione, dice il prelato, la TV TRSP fondata proprio da Don Stellerino D'Annibale. Andiamo avanti, un'altra notizia triste perché è scomparso l'altro ieri l'ex senatore De Cinque, scomparso a 83 anni, una vita spesa per le istituzioni, questo il ricordo della figlia Marianna. Siamo a Teramo, la sanità che cambia, la ASL pronta a dare battaglia per tenere neurochirurgia, l'autonomia del reparto d'eccellenza del Mazzini messa in forze nel piano regionale, Fagnano non si può distruggere qualcosa che funziona, va trovata una soluzione. Il sindaco d'Alberto, siamo sempre a Teramo, la regione dice penalizza, Teramo per il sindaco, la sua maggioranza, il piano sarebbe sbilanciato a favore dell'asse Chieti-Pescara. Ospedale no dei comitati a Piano Daccio, restiamo sempre in argomento sanità, presentato anche un accesso agli atti per il project, Marcozzi dice va utilizzata l'area dell'ex sanatorio. Ancora la cronaca, questa volta dalla provincia di Teramo, partiamo da Giulianova, ragazzina e suo cane, vedete in alto, aggrediti dai molossi dei Rom e poi grave, un 43enne di Bellante dopo una caduta dalla Bici, Silvi, inchiesta archiviata sul piromane, nessun responsabile per le sette vetture date alle fiamme. E poi siamo a Ripoli di Mosciano, moto contro auto, ferito, un giovane. Proseguiamo a Silvi, il tentato omicidio, il giudice oscuro, scusate il movente dell'attentato fallito a Presutti, sparo contro il direttore della motorizzazione, le motivazioni della condanna a 13 anni di Mancinelli, l'ipotesi è che si volesse eliminare il titolare di un ufficio in grado di incidere su forti interessi. Questo lo leggiamo proprio dal titolo del centro di pagina 39. Ancora Silvi, differenziata al via i controlli, multe a chi viola le regole e poi Atri, un'app per visitare l'oasi dei Calanchi. Ieri a tal proposito vi avevamo proposto un servizio nel nostro Tg. Ancora Atri, chiesto un consiglio sulla discarica, il no all'ampliamento, i consiglieri 5 Stelle di Silvi, il nostro comune non può tirarsi fuori. Siamo alla pagina dell'Aquila, la perdonanza, l'edizione del decennale dal terremoto del 2009, due figli proprio del sisma scelti per la bolla, Sara Cruciani, la dama, e Federico Vittorini, il giovine signore, lei scampata al sisma, lui ha perso, madre e sorellina. Quella foto con Sara fece il giro del mondo, molti la ricorderanno perché fu la foto scattata da Massimo Percossi all'alba del 6 aprile 2009 e che ritrae proprio la piccola con mamma Stefania, Sara Luce Cruciani che sarà proprio la dama nella bolla celestiniana. Andiamo avanti, siamo nella Marsica, ad Avezzano, contromano per 10 km, panico sulla 24, notte pericolosa, patente ritirata ad un 81enne e poi operaio ferito da una lastra di vetro, incidente sul lavoro ad Avezzano e poi il giallo di Carsoli, lasciata morire di stenti, il compagno è indagato e poi a Carsoli ancora preso rapinatore, tradito da un'impronta. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo fermarci per la prima parte di mattino 6, tra poco torneremo in studio e proseguiremo con la lettura dei quotidiani. Di nuovo in studio la seconda parte di mattino 6, avevamo esaurito la lettura delle pagine del centro per quanto concerne la cronaca, siamo all'inserto abruzzo del messaggero, ripartiamo da pagina 2, vedete il titolo, il giallo della sanità così definito dal messaggero, ospedale Biondi, sindaco dell'Aquila, teme il blef, sull'Aquila Teramo e poi oltre 200 euro a testa in media, crescita record della spesa per farmaci nella nostra regione, pescara ditte fantasma, maxitruffa all'Inps, la finanza scopre il raggiro ai danni dello Stato, 140 circa gli indagati e poi grandi eventi, l'inchiesta si allarga agli anni 2009-2014, altro blitz in comune, acquisiti gli atti di Natale, l'estate 1 maggio per un confronto su scelte e criteri. Adriatico Plastic Free, anche pescatori arruolati dall'Ateneo parte un progetto pilota per la raccolta, lo studio e il riutilizzo dei materiali recuperati in mare, la Fater partner del progetto. Allora andiamo a vedere il servizio su questa iniziativa che è stata presentata ieri presso la sede della direzione marittima, anzi andiamo avanti, lo vedremo successivamente. Parliamo di Alitalia, di aeroporto, Alitalia conferma il Pescara Alinate, abbiamo visto prima il servizio proprio sulla conferenza stampa di ieri. E poi telecamere antidroga nelle scuole, restiamo a Pescara, finanziato il piano del comune, 5 gli istituti interessati, ieri l'annuncio della prefettura. Vediamo la cronaca in basso, auto di traverso sulle strisce, se no mi chiude l'ufficio, il danno e la beffa, vedete questa foto, e poi l'incidente di Cugnoli di 20 giorni fa è deceduto all'ospedale di Pescara il 74enne che si era ribaltato con il trattore. Poi Montesilvano cade, batte la testa e muore alla festa di laurea della figlia. Andiamo avanti, l'Abruzzo sotto canestro che a Marcordal Marina, da Lestini a Bernardi, in più di cento alla festa dei proprietari del Molo 1, 2 e 5, un revival per parlare del basket di qualche anno fa. Andiamo avanti, pagina dell'Aquila, del messaggero Vittorini, quella delibera avrebbe stravolto le frazioni, la sovrintendente dopo la sospensiva concessa d'altar sull'atto del comune, la replica dell'assessore Daniele Ferella, ideologia senza conoscere le norme. Parliamo poi della città nuova, per Porta Barette via al concorso di progettazione e poi in basso Guardia di Finanza, vedete Salvatore Coviello, nuovo comandante della compagnia della Guardia di Finanza dell'Aquila. Parliamo anche delle New Town, balconi crollati, udienza a novembre. Siamo all'altra pagina dedicata all'Aquila, Sara Luce e Federico guidano il corteo, abbiamo visto anche prima dalle pagine del centro, per la dama della bolla scelta la ex bambina simbolo del sisma, la foto insieme alla mamma dieci anni fa fece il giro del mondo. E poi Vittorini, il giovine signore, lui perse madre e sorellina, una scelta forte, quella di personaggi legati al terremoto. Cartellone chiuso ma top secret, le indiscrezioni su quelli che saranno gli ospiti di rilievo di questa edizione. E poi Emiciclo, colonne sonore, Barattelli, musica antica. E poi Omonovus, il romanzo d'esordio di Carlo Vitucci, oggi la presentazione del libro. E poi vedete più in basso, autonomia, ora la regione si muova, ci vuole un dibattito con gli enti locali. Questa è la lettera del presidente della provincia dell'Aquila e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Proseguiamo, siamo alla pagina del messaggero dedicata ad Avezzano e Sulmona, 10 chilometri contromano sulla A25, panico nell'altra... nella notte scorsa ad Avezzano per un 81enne che ha sbagliato manovra, gli agenti gli hanno ritirato la patente. Carsoli rapinò la banca del Fucino, arrestato Napoletano, Parco della Maiella, agricoltura sostenibile, una nuova prospettiva. Andiamo in basso, Sulmona, altri cani seppelliti, gestrice sotto Torchio. E poi Celano, la Jets Convention durerà per tre giorni e poi vedete il titolo che riguarda Scanno, Scanno gioielli per la regina Ventura, scelti preziosi di Rienzo che saranno indossati oggi alla nostra cavalleresca di Sulmona. Ancora Avezzano, 500 firme contro il taglio degli alberi. Andiamo a vedere la prossima pagina che ci porta a Chieti. Teate e servizi, in piazza la rabbia dei lavoratori, ancora senza stipendio. Ieri sit-in sotto i portici del comune, sindacati all'attacco anche sulla mancata stabilizzazione dei vincitori del concorso. Con le nostre telecamere abbiamo seguito ieri questa protesta dei lavoratori della Teate e servizi. Possiamo andare a vedere il prossimo servizio. Sit-in di protesta dei dipendenti di Teate e servizi davanti alla sede del comune di Chieti. I lavoratori hanno manifestato per ottenere gli stipendi congelati da mesi e pare che occorreva la protesta per smuovere qualcosa. Sembrerebbe infatti che in mattinata siano finalmente giunti i pagamenti. Sì, che abbia provocato il corretto e normale pagamento delle ribuzioni ci sembra una cosa assolutamente normale. Ma ripeto, la preoccupazione sta nel fatto che questa società e la discussione su questa società nei mesi e nelle settimane passate è stato anche oggetto di discussione politica tra le diverse forze politiche. Questo a noi ci preoccupa, perché quando poi una società i lavoratori potrebbero diventare anche merce di scambio rispetto a una crisi o meno, noi che facciamo sindacate e quindi ci atteniamo ai fatti, a noi preoccupa terribilmente questa cosa. Ma la questione di certo non si risolve qui. La posizione di circa 40 dipendenti rimane a rischio. Non solo. Mentre gli amministratori delegati di Teate e servizi continuano a dimettersi uno dopo l'altro, devono ancora essere regolamentarizzati i contratti di 19 dipendenti che hanno vinto l'apposito concorso. Noi chiediamo innanzitutto alla società di cui il Comune è socio unico la stabilizzazione o meglio la trasformazione dei contratti a tempo determinato, a tempo indeterminato di 19 dipendenti che hanno vinto un concorso e c'è stato un accordo fra le parti e ormai da tempo dovevano essere trasformati questi contratti ma per un rimpallo di responsabilità tra la Tata e Servizi e il Comune di Chieti questo non avviene. La situazione rimarrà in bilico finché non si conoscerà il futuro dell'amministrazione teatina. Teate e Servizi infatti è partecipata dal Comune di Chieti che ne è socio unico. Questo significa che se il Consiglio Comunale non dovesse approvare il bilancio 2018 e quello preventivo del 2019, Teate e Servizi è destinata a chiudere i battenti e circa 40 lavoratori rimarranno a casa. Il servizio era di Giuseppe Dintino, torniamo alle pagine di Chieti del Messaggero. Ecco qui la pagina con inquadrato un altro titolo perché torna il Magic Summer, un weekend dedicato alla magia e all'arte di strada, concerti per bidoni e padelle, burattine, acrobazie e tanto altro da venerdì e domenica a domenica nel centro storico di Chieti. E poi l'ultimo saluto all'ex senatore De Cinque, politici e cittadini alla Camera Ardente per salutare l'ex senatore Germano De Cinque nella Camera Ardente allestita nella sala consigliare della provincia di Chieti, ente di cui De Cinque fu presidente dal 1970 al 1976. Andiamo avanti, Blutec, sequestro bis per i 16 milioni, siamo alla vicenda proprio della Blutec, nel mirino l'uso di finanziamenti pubblici, la nuova azione preventiva colpisce amministratore e presidente della società. E poi, entro il 31, la cessione di Oniwen alla Baumark, altri fronti, attesa la firma dell'accordo. E poi, mercato, no alla riapertura, siamo a Lanciano, il Jeep, prima la bonifica, ancora Lanciano, Borghi più belli, assemblea al voto a Rocca San Giovanni, spostiamoci in basso, basto ancora Rubinetti a secco, rinforzi da Lanciano per la Sasi, ad Ortona, Ortona cambia, mozione per riqualificare l'antistadio. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero, Sanità e Comitati dicono no all'ospedale a Piano Daccio, questo è il titolo di apertura, per il coordinamento delle associazioni va ammodernato ed ampiato l'ospedale Mazzini. E poi, lo studio, i pericoli del terremoto capoluogo, ovvero Teramo, diviso in zone. L'evento, domani Mogol, torna nella sua Silvi e poi Prati di Tivo, cena nella cabinovia a picco sulle rocce. Poi l'inchiesta, piromane, auto incendiate, il PM scagiona il sospettato. Andiamo a vedere la prossima pagina del messaggero, eccola qui, quella che riguarda la provincia di Teramo, partiamo da Giulianova, venduto il primo albergo della città, l'impresa Mucciconi ha acquistato nel centro storico la struttura ricettiva nata dalla fantasia di Giulio Federici. Era chiuso e abbandonato da circa 30 anni, da quando venne trasferita l'ex pretura si affaccia sul mitico belvedere di Giulianova. Vediamo altre notizie, Val Vibrata occupano abusivamente un casolare abbandonato e poi ancora Giulianova, vandali all'assalto dell'ex tribunale, tanti i danni. Più decibel per la notte, sequestro di manufatto, ordinanza ad alba per il mare e operazione a colonia della guardia, costiera, nereto, babyland fest, tanti gli eventi da seguire. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport e allora possiamo passare al quotidiano la città, partire da pagina 5, Abruzzo truffa da mezzo milione i danni dell'Inps, abbiamo visto il servizio con l'inchiesta della guardia di finanza di Pescara. E poi la nomina Monica Petrella è stata nominata vicepresidente della fondazione Magna Carta. E poi ancora Teramo, ospedale nuovo ma al posto del vecchio, quartieri e associazioni danno vita al comitato contro il progetto di piano d'accio, riqualifichiamo, dicono il Mazzini. E poi ospedali ancora, Teramo contesta il piano di riordino, le scelte del centrodestra sono identiche a quelle del centrosinistra ma la politica non perde l'occasione per azzuffarsi. Proseguiamo, più forte il ponte tra Teramo ed Ecuador, il mediatore teramano Aramondi ha incontrato il presidente della Repubblica dell'Ecuador, Moreno. Andiamo a vedere la prossima pagina, che è pagina 11, positiva alla perdita dei fondi per la stazione, attivisti e pendolari contenti per l'abbandono del progetto d'arretramento, non ci sarebbe stato spazio per i nuovi treni. E poi ancora pronto lo studio sulla microzonazione sismica, siamo sempre a Teramo, lo strumento servirà a mappare il territorio comunale e ad individuare le aree a maggior rischio. E poi Unione dei Comuni, contributi dalla Regione per potenziare le telecamere. Vediamo ancora Prati di Tivo, assicurato l'avvio della stagione invernale, la Gran Sasso Teramano approva infatti il bilancio e annuncia gli impianti saranno aperti per l'8 dicembre, dunque per il via classico alla stagione invernale. E poi in basso vedete una cena sospesa sulla cabinovia del Gran Sasso, nata dalla corroborazione tra diversi enti e associazioni. Siamo alla pagina della Val Vibrato, auto prende fuoco dopo lo schianto, momenti di paura, Sant'Egidio alla Vibrata e poi Tortoreto allarme per il 26enne della Guinea, arrestato più volte. E poi Martinsicuro occupano un casolare per farne una casa provvisoria, denunciati in due. E poi Nereto, comune condannato per le proroghe, all'agente municipale. Infine, nella parte bassa della pagina, l'evento, la prima festa del volo libero a Monte Piselli. Per l'occasione saranno riaperti gli impianti di risalita della stazione turistica. Siamo alla pagina di Giulianova, la politica, Costantini si oppone al ricorso sul voto in carico legale per resistere le azioni di Tribuiani, affidato all'avvocato Cerulli Irelli. E poi Ripoli di Mosciano, frontale tra auto e scuterone, 22enne, finisce in prognosi riservata. Ancora Giulianova ha pubblicato l'avviso per il servizio di trasporto scolastico. E poi in basso, dopo la brandiera blu, arrivano anche le spighe verdi. Siamo a Giulianova a ricevere il riconoscimento della fe. È stato l'assessore Giampiero Di Candido. Tornando a Mosciano, immagini del cielo a tutta cupola a Colle Leone. Siamo alla pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi. Partiamo da Roseto, gli agenti della municipale sventano un furto d'auto. E poi ancora, chiesto un tavolo regionale per Salpa, ieri mattina a Roseto, l'incontro tra istituzioni e rappresentanti sindacali. Il Mercato Verde di Roseto in Piazza Dante. E poi invece Silvi, oggi scattano i controlli sulla raccolta porta a porta. Buste e mastelli saranno ispezionati dal personale della Diodoro e dalla Polizia Municipale. Cronaca, ancora Roseto degli Abruzzi, baracche a lacce abusivi nel campeggio su un terreno demaniale usato da un'associazione culturale. Era stata realizzata una struttura in legno. E poi Atri, la città si mobilita contro l'ampliamento della discarica di Santa Lucia. Domenica 4 agosto, il corteo organizzato dal Comitato Difese Ambiente che prenderà il via dalla Villa Comunale Cultura. Mogol a Silvi parla di vita e canzoni. Domani la serata con il noto paroliere che ha fatto la storia della musica leggera italiana. E siamo così arrivati all'ultima parte di mattino 6, la pagina dello sport. Partiamo con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Iniziamo con la gazzetta dello sport, l'intervista esclusiva a Godin. Io sceriffo Inter, dice il giocatore nerazzurro. Bel gioco, primo vincere. E poi una voce inglese di bala allo United per avere Lukaku. Potrebbe essere una possibilità. E poi ecco Ciala Milan, voglio restare l'anno buono, parla Cialanoglu, centrocampista del Milan. Vediamo anche il corriere dello sport. In alto si parla del Napoli, De Laurentiis vuole anche Icardi. Dunque l'interista potrebbe finire a Napoli. E poi Lukaku, sgambetto Juve, trattativa avviata. Il noto è la valutazione dei due attaccanti. Infine tutto sport, la Juve su Lukaku, abbiamo visto anche prima. Marotta Paratici, sfida totale. Dunque sfida totale tra Juventus e Inter. Vediamo qualche altra notizia. Tesoro Toro per quanto riguarda il Torino. Con l'arrivo di Bonifazi. E poi Milan preso Leao, il giocatore che arriva dalla formazione francese del Lille. Vediamo lo sport del centro. Il Milan in pugno, Leao del Lille. La Roma pronta ad offrire soldi e gecko per Icardi. Se Higuain continua a rifiutare i giallorossi. Vediamo anche il ciclismo. La Frana incorona Bernal al Tour de France. Ma il tempo fa interrompere la tappa. Ed il Colombiano sale in vetta. Vediamo il calcio. Il calcio d'estate. La Juve di Sarra rincassa troppi gol. Più ombre che luci. Nell'amichevole pareggiata con i coreani. Sirene dalla Premier per Dybala. E c'è Higuain da cedere. Vediamo anche la pagina. Siamo arrivati alla pagina che riguarda il calcio di Serie B. Il Pescara, le trattative della formazione bianca-azzurra per rinforzare ulteriormente l'organico. E Gaston Brugman, la chiave per arrivare al bomber. Il Parma non molla l'uruguaggio. E nella trattativa potrebbero entrare Ceravolo o Brunori, idee migliore e Renzetti per la difesa. Vediamo poi in basso. A Palena spunta il drone. Domani test in famiglia. È stata annullata l'amichevole con la Juve Stabia perché non si è riusciti a trovare un campo. dove ospitare la gara con i campani. Intanto Perrotta saluta i suoi ex compagni. Lascio, dice la mia seconda pelle, Perrotta ha prodato al Bari. Il direttore sportivo Bocchetti, che avevamo ascoltato proprio l'altro ieri, nel giorno dell'amichevole del Pescara a Palena con la Ranatucuri Angolana, dice priorità alle cessioni perché c'è un organico extra large. Dunque il Pescara deve anche cedere dalla Serie B alla Serie C. Teramo per il centrocampo spunta. L'Asic, i biancorossi, valutano la mezzala ex Avellino e Brescia. Presso a sorpresa il baby attaccante romeno, Birligea, ex Palermo. Vediamo anche la Serie D. L'Avezzano ripartirà lunedì in eccellenza. Il Cupello prende Tafili e Santilli. Il paterno ingaggia. Cristofari, vediamo in basso altri sport. Beach Soccer domani l'Italia in campo a Martinsicuro. Moto d'annunzio in pista a Misano al Siv Superbike. Ciclismo attese circa 200 otelete domani agli assoluti nel Terramano. Vediamo anche il volley con la festa azzurra di Chieti. L'amichevole che si è giocata al Palatricale, ma a vincere è stata la Slovenia. Per 3 a 1 la bolgia del Palatricale non basta l'Italia. La squadra di Blengini va sotto di 2-7. Alla fine capitola per 3 a 1. Di Camillo ora speriamo nelle donne, parla il presidente regionale della FIPAV. Vediamo anche il ciclismo. Il 22 settembre, questa è una notizia ovviamente di rilievo, si disputerà il trofeo Matteotti di ciclismo di Pescara. Scommessa Giuliani, sarà un Matteotti più spettacolare. Il direttore tecnico conferma la formula del 2019. Avremo un maggior numero di squadre World Tour e Professional. Vedete nella foto, tra gli altri, nella foto di fianco, è proprio Stefano Giuliani assieme al presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che è anche patron del Matteotti. Vediamo anche altre notizie. Il podismo dice che si prende la prima penne Run Night. Il farese mette in riga Giovannangelo e Bisogno. Tra le donne, Svetta Monaldi, davanti a Cerretani in basso di Ignazio ed il go-kart. Quando la passione diventa ambizione, siamo a Mociano Sant'Angelo, dove il ventenne pilota di Mociano domani sarà in gara a Rieti nel campionato interregionale. Vediamo anche la prossima pagina dello sport del centro, con l'addio all'attività agonistica di La Gioia. Il condottiero, io, Giramondo del basket, l'ex capitano dell'Adriatica Press, sarei dovuto essere più presuntuoso, dice in questo articolo. E poi Roseto, basket 3x3 con 6 squadre abruzzesi, oggi e domani alla Bella Vista Arena. E poi Pugilato, Alfieri debutta tra i professionisti a San Salvo, la prima per il Pugile Bastese. Andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero e il Pescara di Ciscogol. L'esterno offensivo l'anno scorso ha punito il Delfino a Padova, ma dice, mi farò perdonare, lo avevamo ascoltato a Palena, ha proposto la sua intervista nel corso dei nostri TG. E poi Brugman al Parma, adesso l'operazione si può fare, lo dicevamo anche prima. Il volley palatricale gremito, la Slovenia però guasta la festa all'Italia, sconfitta per 3 a 1, si impongono degli avversari nel test match, ma è stata una grande festa con tanti appassionati sugli spalti. Vediamo l'altra pagina dello sport del messaggero, il Teramo di Tedino si svela a Canistro, è l'occasione per vedere all'opera i vecchi confermati e i nuovi arrivati. Arrigoni fare il regista non è facile, Santoro e Birligea firmano con la società Biancorossa. E poi la contestazione a proposito di Serie C con i tifosi del Cerignola che hanno bloccato la strada statale 16, anche l'autostrada 14 per protestare contro il mancato ripescaggio della squadra in Serie C. Noi parliamo invece di Serie D, il Pineto di Epifani domenica prossima giocheranno con la delfino Flacco Porto Pescara, il 4 agosto invece ci sarà l'amichevole proprio con il delfino Pescara di mister Zauri. E poi la Vastese si raduna, il mercato non è chiuso, il tecnico Amelia sento che la società ci è molto vicina. Vediamo altri sport, basket, Roseto due giorni non stop con il trofeo giovanile di basket e poi l'atletica con i tricolori, speranze nella Sabatini e Pucca in lizza a 19 ragazzi della nostra regione nella manifestazione che si terrà a Bressanone in Trentino, Alto Adige. E siamo alle pagine dello sport del quotidiano La Città, ecco qui la prima pagina dedicata al Teramo, ci sono novità di mercato perché per la mediana c'è l'idea LASIC, l'ex Avellino si sta allenando in Slovacchia con lo Slovan Bratislava dopo l'infortunio del 2017. LASIC che ha giocato con l'Avellino, vedete in questa foto il giocatore nella gara contro il Frosinone del novembre del 2017. Poi in basso vediamo anche il basket, Faragalli è il nuovo preparatore atletico della Teramo a spicchi, entusiasta, dice di poter iniziare questa collaborazione. Il mio compito è gestire il buon fatto finora e provare a fare il massimo. Siamo alla seconda pagina di sport del quotidiano La Città, in questo caso parliamo di ciclismo, le strade della provincia segnano il tricolore, tutto pronto sia a Notaresco che a Castellalto per il campionato italiano Don Juniores ed Elite. Vediamo poi in basso invece il Bisch Soccer, serata finale ad Alba Adriatica ieri sera per la tredicesima edizione del torneo Città di Alba. Sono andate in scena le due semifinali, ora il gran finale della manifestazione che è stata organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Beach Sport. E siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6, che tornerà lunedì come sempre alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo come sempre per quanto concerne gli appuntamenti informativi della nostra rete alle 14, la prima edizione del Tg6. Ancora grazie della nostra redazione, l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.